un'anteprima, quello della signorina Tattangelo sta già su internet il pezzo si, si, il testo, si, si me l'hanno detto i miei vicini di casa, si, si, è bello a me la fonte è molto aggredita è dedicata ai gay Laura si, si, si c'è l'informazione c'è l'informazione, capito? il tam tam dell'archi gay allora, Laura però voglio diventare eterosessuali avendolo letto Laura, rimani in linea per favore e ascoltiamo la tua canzone